La grande favorita dell'eccellenza al Brian Lignano contro un Codroipo che è partito malissimo in questa stagione con sette gol subiti e due sconfitte in Coppa Italia. Subito Ciriello per Bertoni, Bertoni guardate come gestisce questo pallone, il tocco sotto sul secondo palo, Campana al centro, arriva Pagliaro subito. Brian Lignano 1-0 da rivedere la bellissima giocata di Bertoni ma anche Campana che mette al centro per Pagliaro, attenzione a Facchinuti che è bravo con quest'azione in pressing, Ruffo va via, si allarga un po' il suo sinistro, trova attento Peressini in parata non scontata. Tiene la porta inviolata oggi Peressini in una gara dove il Codroipo riuscirà a rendersi pericoloso, qua è Tonizzo a prendere il palo in acrobaziera, troppo vicino alla porta per riuscire a mettere in rete. Ancora Brian Lignano in avanti, Ciriello dopo il cross di Bertoni fuori, ma guardate Ruffo che bravo ad andare via sulla sinistra, un buon Codroipo nel primo tempo, pallone per Tonizzo. Che parata per Essini, davvero fondamentale il portiere e sul finale di tempo, prima del riposo, questo episodio secondo Duranti di Trento, c'è calcio di rigore per un braccio, il pallone ribalza, finisce sul braccio di Tonizzo. Le proteste sono inutili, c'è anche un'espulsione dalla panchina, gli episodi girano a favore del Brian, che poi è bravo a concretizzare. Ciriello non sbaglia, trova il 2-0, meriterebbe almeno un gol il Codroipo, anche nella ripresa ci prova Beltrame, Cassin sulla traiettoria non riesce ad indirizzare a rete. Poi ancora Brian Lignano qua, Nutta, ci mostra una parata spettacolare su Codromazza e ancora Codroipo che non molla, Cassin la girata di testa, bravo per Essini, Beltrame al volo, pallone fuori. Come detto un Codroipo che meriterebbe di più, poi però è sbilanciato, comincia a rischiare sempre più. Alessio per Pagliaro, Pagliaro mette fuori, poi Campana al centro, ormai siamo sul finale del secondo tempo e Ciriello chiude ogni discussione con sinistro. All'angolino l'ultimo episodio, rigore di Pramparo su Michelin, forse un po' generoso il secondo rigore, stavolta va Pagliaro che mette all'angolino e il Brian Lignano vince 4-0.